Ok, perfetto. Allora, oggi puntata speciale. Per quale motivo? Perché vi racconto una giornata passata con il gruppo Telegram che si chiama proprio Stefano Pasotti. Ora, se non siete ancora iscritti, andateci. Parliamo di design, di tecnologia, parliamo di un sacco di cose diverse che riguarda il mondo del design. Ma dal titolo avete letto qualcosa di diverso. Partiamo da un cucchiaino, un cucchiaino progettato da Achille Castiglioni, che sarà il nostro filo conduttore per tutto il video. Dovete sapere che io sono una persona curiosa e approfondisco ogni aspetto di ciò che mi incuriosisce. In particolare io sono, diciamo, appassionato di cucchiaini. Avete capito bene di cucchiaini. Io ho veramente tantissimi cucchiaini e questo in particolare viene da una collezione che si chiama Dry ed è stata progettata nel 1982 da Achille Castiglioni. Ed è un cucchiaino particolare. Per quale motivo? Perché ha una sezione quadrata e ha questo elemento del gioco, quindi può essere ruotato come se fosse una trottola. Per avere questo cucchiaino ho fatto un magnifico viaggio in una delle culle del design, se non la culla del design a livello mondiale, insieme agli amici di Telegram. Ovviamente non è che sono andato solo per il cucchiaino. Sono andato per confrontarci e capire insieme tanti aspetti del mondo del design e il significato stesso della parola design. Quindi, come vi dicevo, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e il posto in cui siamo andati è appunto Milano. Milano è un posto strano. La ami oppure la odi? E non c'è una via di mezzo. È stata la casa di alcuni dei maggiori designer al mondo. Parliamo di gente del calibro di Marco Zanuso, Richard Sapper, Enzo Mari e Achille Piergiacomo Castiglioni. Ecco, fermiamoci ad Achille Castiglioni. Vicino al castello sforzesco di Milano, appunto, c'è lo studio, lo studio dove collaborava e dove lavorava insieme al fratello, Piergiacomo Castiglioni. Qui, dopo la sua morte, è nata la fondazione Achille Castiglioni. E quindi andiamo a vederlo. Quindi entriamo all'interno di questa fondazione. Slide in editing all'interno dello studio e... No, non è vero. Ora, se volete vedere la fondazione Castiglioni, andate a vederla, ok? Ci sono cose che il video o un libro non vi può descrivere, ok? Quindi, se volete vivere le fondazioni, andate a vederle. Comunque dai un pezzettino, ve lo faccio vedere. Questo sono io mentre cerco di più o meno sistemare la videocamera dentro a una delle sale della fondazione Castiglioni. Vedete, in fondazione sono andato con Filippo, Paolo, Anna, Matteo, Jacopo, Fei, Sara e Marco. E con loro ci siamo confrontati con tantissimi aspetti del mondo che riguarda il design legato ad Achille e Piergiacomo Castiglioni. Veniamo da posti diversi, abbiamo idee diverse, esperienze diverse, ma che possono aiutare a farci comprendere molti aspetti delle nostre vite. Ed è stato interessante farlo all'interno della fondazione. Un vero studio che mostra dei pezzi incredibili in modo molto semplice e chiaro. Ah, e qui ho comprato il cucchiaino dry del 1982. Ok, qui l'ho potuto comprare e questo ora fa parte della mia collezione, va bene. Questo posto lo consiglio a chiunque sia interessato al mondo della progettazione perché non vedete solo oggetti, respirate proprio il mondo del design. Questo è molto importante. Il design assume tantissimi aspetti diversi. Qui vedete una delle persone più importanti, uno dei rappresentanti migliori che il design abbia mai sfornato. Ed è molto molto importante capire che cosa lo ha ispirato perché ci sono molte curiosità a vedere all'interno. Non vi spoilerò nulla, però andateci. Comunque la nostra passeggiata non si è fermata qui, abbiamo fatto ancora altre due tappe. Uno di questi riguarda un museo e di preciso l'ADI Design Museum che è aperto da pochissimo, tipo fine maggio, una cosa del genere. Sempre presente a Milano. Per chi non lo sapesse, l'ADI è l'Associazione per il Disegno Industriale. Il museo è nato per racchiudere tutti i progetti vincitori del compasso d'oro. Il compasso d'oro è probabilmente il premio più importante al mondo per quanto riguarda il design e viene assegnato adesso in media ogni due anni. Per poter accedere a questo compasso d'oro bisogna superare una selezione che riguarda l'ADI Design Index dove l'Associazione per il Disegno Industriale seleziona i progetti più importanti del mondo del design e questi concorrono poi al compasso d'oro. E ci sono molti, molti pezzi da vedere. Alcuni fanno parte della nostra società, non lo sappiamo, ma ci sono. Ad esempio, passeggiando per strada, se voi guardate i tombini, alcuni di questi tombini hanno anche magari all'interno delle texture strane, cioè magari hanno una forma quadrata o circolare, un cerchio, ma sopra magari, non lo so, ad esempio ci sono delle impronte di uccellini o cose del genere. Se trovate dei tombini di questo tipo sappiate che hanno vinto il compasso d'oro, ok? Quindi siamo circondati da progetti incredibili e che hanno vinto anche numerosi premi e magari non ci rendiamo conto della loro esistenza. E anche qui vedrete delle cose incredibili. Bisogna viverli, certe cose bisogna viverle, ok? Io mostro sempre tutti i particolari di un oggetto, però le fondazioni, i musei, questi sono da veramente respirare. Ora, una volta che siete all'interno, cosa osservare degli oggetti che vi circondano? Un consiglio che posso darvi. Alcuni di questi progetti hanno i disegni originali, i disegni tecnici originali. Per convenzione, i disegni tecnici, oltre alla forma, tutte le quote, hanno il cartiglio. All'interno del cartiglio ci sono anche le firme dei progettisti che hanno lavorato lo sviluppo dei progetti, ok? I progettisti che hanno lavorato lo sviluppo, ve lo dico due volte, per quale motivo? Un progetto nasce fondamentalmente da tre figure. Il designer, l'ufficio tecnico e il commerciale dell'azienda. Queste sono le tre figure più importanti. Per quale motivo? Perché il designer può mettere, diciamo, la forma, poi sta all'ufficio tecnico interno o esterno sviluppare tutto quanto e poi l'ufficio commerciale sta al compito di capire se questo oggetto deve essere messo sul mercato in quel momento, in un secondo momento, oppure non deve essere messo sul mercato. I disegni tecnici che ci sono all'interno hanno delle firme di studi che non vedrete mai sui libri di storia, ok? Oppure li vedrete molto molto raramente. Per quale motivo? Perché sono quegli studi che hanno collaborato allo sviluppo del progetto. Quindi è qualcosa che rimane in un secondo piano, rimane dietro le quinte. E quindi quello che posso dirvi è guardate ogni aspetto di tutti gli oggetti che vedete all'interno. Impiegherete ore a farlo, però è importante capire come sono nati gli oggetti, perché sono stati sviluppati in quel modo, chi li ha sviluppati. Uno degli oggetti che mi ha lasciato di più è stato incredibilmente un secchio, un secchio di plastica. Quando serviamo questi oggetti, questi oggetti hanno vinto il compasso d'oro per la forma, per come sono stati progettati e per i materiali utilizzati. Questo secchio in plastica è stato il primo nella storia in plastica. E quindi in un periodo in cui c'era il metallo, la latta, è arrivato questo nuovo materiale che era più silenzioso e aveva diversi colori. In un periodo in cui era tutto grigio, arrivava questo oggetto che poteva essere sviluppato in diversi colori. Questo ha fatto davvero la differenza ed è uno dei motivi per cui ha vinto il compasso d'oro. E anche qui vi metto ogni tanto dei video, ma giusto per farvi capire più o meno gli spazi e che cosa potete trovare all'interno. Tra le altre cose, in editing ho capito che San Bruno Marel, a Bologna, l'umarel è il signore anziano con le mani dietro la schiena che va a controllare i lavori, se vengono fatti i lavori stradali o degli edifici, per capire se vengono fatti nel modo corretto. Ecco, facendo l'editing mi sono proprio reso conto che io sono un Marel praticamente. Mani dietro la schiena e via visionare ogni singolo aspetto di ogni singolo prodotto. Ah ecco, un'altra parte molto interessante è quella che riguarda i poster all'interno dell'Adi Design Museum. Per quale motivo? Hanno fatto una sezione nel quale hanno chiamato diversi designer, artisti, progettisti per sviluppare dei poster con diversi temi. Questi poster sono gratuiti e possono essere letteralmente presi uno solo per persona. Ok? Molto molto importante, un solo poster per persona. Ditemi che cosa avete selezionato, io ne ho selezionato uno che mi ha particolarmente colpito e magari scrivetemelo sotto nei commenti. Poi io ve lo scriverò più avanti o magari ve lo scrivo su Telegram, ok? La giornata però non si è conclusa. Improvvisamente Milano ha cominciato a piovere tantissimo e si è creato questo colore molto grigio tipico proprio di Milano. Una delle persone che era con noi in questo mega viaggio, Matteo, ha fatto una sorpresa, quindi ha organizzato diciamo una visita all'interno dello studio Memphis che è qualcosa di molto molto particolare. Se non sapete di cosa sto parlando cercatelo perché ho fatto un video dedicato solo al gruppo Memphis. Diciamo che è un gruppo molto particolare, ha avuto un successo incredibile negli anni 80 e parliamo di oggetti magari di grandi dimensioni, tavoli, sedie, letti, molto particolari con accostamenti assurdi. Sapete, non è il mio stile preferito ma è importantissimo avere un quadro a 360 gradi di tutto ciò che ci circonda per comprendere meglio il mondo. Ed è stato così. Ci sono colori che non rendono su un libro, ci sono armadi, specchi come vi dicevo prima, fuori scala ed estremamente sorprendenti. Questo posto quando siamo entrati era praticamente in ristrutturazione e le persone che lo gestiscono sono state molto molto gentili e ci è andata la possibilità di visionare tutto, di chiacchierare, di guardare ogni singolo aspetto di ogni singolo prodotto. Ed è molto importante perché io ho sempre visualizzato alcuni oggetti con delle dimensioni e vederli lì fa davvero tutta la differenza del mondo perché ti rendi conto di che importanza hanno avuto questi oggetti e soprattutto ti rendi conto accanto a una persona quanto sono grandi, caspita! E quindi niente, è stata una giornata incredibile dove ho davvero imparato tantissimo E forse questa è la chiave del design Forse studiare ma soprattutto respirare questo mondo del design significa questo Significa non smettere mai di imparare nuove cose per dare una forma sempre diversa a ciò che ci circonda E siate sempre curiosi come diceva Achille Castiglioni Vedere cosa hanno fatto i grandi esponenti di questo settore è qualcosa di impagabile e Milano si è sempre confermata la capitale mondiale del design È importante però non smettere di creare e di far evolvere questo mondo del design in parallelo alla società che è in continua evoluzione Ed è stato molto molto bello fare questo viaggio insieme a Filippo, Paolo, Anna, Matteo, Jacopo, Fei, Sara e Marco E spero che il gruppo continui ad aumentare Ed è stato veramente interessante perché veniamo da mondi molto molto diversi Cioè ad esempio Fei ha portato sua moglie che si chiama Sara E loro non vengono proprio dal mondo del design però gli incuriosisce questo settore E quindi è stato bello mostrargli anche cose nuove, cose inaspettate Mi è piaciuto davvero tanto Cioè una cosa, adesso vi racconto questo aneddoto Fei e Sara erano indecisi su quale poster prendere E quindi siamo rimasti lì tipo una ventina di minuti per capire esattamente quale scegliere Alla fine Fei ha preso un poster veramente bellissimo di un razzo Che è stato diciamo disegnato dal progettista e dedicato al fondatore di Artemide E lui non sapeva la motivazione Nel senso lui ha visto questo razzo ma non capiva il motivo per cui fosse stato disegnato La motivazione è che il progettista, il fondatore di Artemide in realtà è stato un ingegnere aerospaziale E le ha progettati davvero i razzi Raccontagli questa storia gli ha riempito il cuore e ha detto Caspita prendo questo perché ha una storia dietro È stato davvero davvero bello Poi non ho idea di quale abbiano appeso in casa Sara e Fei Però questo aneddoto me lo porterò sempre con me Ah sto ripreparando questa giornata anche quando ci sarà il salone del mobile Il super salone, il fuori salone, quello che volete a settembre Quindi se vi interessa venite nel gruppo di Telegram Così riusciamo a scambiare quattro chiacchiere E a capire come riusciremo ad incastrare tutti i nostri impegni per vederci di persona Tutto qui, alla prossima, ciao! Tutto qui, alla prossima, ciao!